Secondo me sì, nel senso che io posso dire francamente che ho capito davvero Angela Davis e le leggende Basaglia, perché loro hanno avuto la grande capacità di dire in modo chiaro quello che altrimenti rimane vago, ossia che l'abolizionismo di per sé, se noi parliamo di abolizionismo diamo una prospettiva finale, invece è una prospettiva iniziale. Se noi parliamo di abolizionismo come aboliamo il carcere, chiunque nel dibattito ti dice poi cosa fai? I detenuti dove vanno? Cioè si immagina l'abolizionismo come il punto d'arrivo. Quello che insegnano i Basaglia, parlo di Basaglia ma parliamo del gruppo esteso di Gorizia, di Trieste, insomma da Franco Rotelli a Giovanna del Giudice, a tutte le persone che hanno attraversato e che continuano ad attraversare con forza e coraggio quegli spazi, ti raccontano che il superamento del manicomio era una fase intermedia, come giustamente ha detto Stefano, che arrivava dopo una pratica e dopo un'esperienza di vita perché Franco Basaglia tra il 43 e 44 finisce in carcere. Quando lui arriva all'ospedale psichiatrico di Gorizia dice ho sentito l'odore simbolico della merda, che era quello che avevo respirato in carcere. Solo che cosa succede? Che quando lui si trova a Gorizia è lui l'istituzione perché lui è il medico e lui dice mino firmo. Lui dice chiaramente che non sarebbe stato complice di quel modo di fare l'istituzione che è il nodo. Quando Stefano dice bisogna ribaltare e dobbiamo partire dai diritti fondamentali, dobbiamo scardinare le mura del carcere, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che dobbiamo interrogarci su cosa l'istituzione fa. All'inizio dell'istituzione negata i Basaglia dicono cosa fa l'istituzione e cosa dice di fare? Allora cosa fa il carcere? Noi sappiamo bene cosa fa il carcere. Comprime tutta una serie di diritti in cui il diritto alla libertà del movimento è solo uno dei diritti compressi, quello la sessualità e un altro. Che cosa fa realmente il carcere? Ce lo dicono in tanti ma lo vediamo ogni volta che entriamo e che attraversiamo chiunque di noi attraversi le murale del carcere. Fa una separazione soprattutto sulla base di classe e questa è una delle note che vengono tracciate e cucite insieme da tutto il dibattito degli anni sessanta. Pensiamo ai Basaglia, pensiamo a Michel Foucault nella società punitiva, pensiamo a Goffman e quello che scrive in Asylum. Tutti raccontano che c'è una trama di classe che va a costruire quel muro. Però la funzione dichiarata del carcere qual è? La reeducazione. Cioè il nostro dettato costituzionale ci dice che il carcere è la pena, anzi la pena non il carcere perché è molto diverso, la pena deve tendere all'umanità e ha come funzione esplicita la reeducazione del condannato. Quindi noi abbiamo una funzione manifesta che è quella dichiarata che la reeducazione che non viene quasi mai ottemperata perché noi abbiamo dei tassi di recidiva attorno al 70% e poi c'è un'altra funzione che è quella di separare. Quel muro separa e separa sulla base della classe, sulla base del confine, separa attraverso tutta una serie di meccanismi che noi vediamo in maniera molto netta riprodotti. È vero che il carcere ha una composizione varia, parliamo di 61.000 persone. È vero che c'è una grossa differenza tra i reati contro la persona che sono i reati che provocano indignazione sociale e la pancia, diciamo, del penitenziario che è fatta invece di reati contro la proprietà. Fondamentalmente la cosiddetta rapina impropria è uno dei reati che abita di più le circondariali che frequentiamo ma anche i reati di violazione del testo di uno con sostanze stupefacenti fanno la stessa cosa. Sono dei reati che potremmo definire in un modo un po' vettero, se vogliamo, di classe. Allora, quelle mura cosa servono? A fare e a rafforzare, a riaffermare e a confermare una divisa di classe. Allora, se noi vogliamo stare dove sta Angela Davis, che lei portava tutte quelle contraddizioni nella propria storia, nel proprio corpo, solo attraverso una visione di abolizionismo istituzionale possiamo ragionare di libertà. Se la guardiamo così, allora lo capiamo. Ma attenzione, non è indolore questa scelta. E Basaglia lo dice bene, perché Basaglia ci dice, quando io ho lavorato alla chiusura dei manicomi, cosa ho fatto? Ho scodellato la miseria del mondo in tutte le città. Siete pronti ad accoglierla? Cioè, il punto nodale per ragionare di abolizionismo non è semplicemente la chiusura del manicomio prima o la chiusura del carcere oggi, ma siamo pronti a stare in una città che ha la sofferenza sociale al nostro fianco o anche noi chiediamo la separazione da quella sofferenza sociale? Questa, secondo me, è la domanda a cui dobbiamo rispondere stasera o provare quantomeno ad interrogarci.